In Curia Cremonese e Nuovo Atto, sembrerebbero le immagini di una periferia abbandonata, si riferiscono invece ad un'opera architettonica del ventennio fascista, tra le più belle. Parliamo del cavalcavia del cimitero di Cremona, tripudio di gradini rotti, erbacce e muri imbrattati. Il degrado è sotto gli occhi di tutti coloro che frequentano il cimitero e soprattutto degli anziani, per cui con l'asfalto sconnesso, i gradini crepati e spezzati in più punti, le erbacce che rendono scivolosa la discesa nei giorni di pioggia, sta diventando anche un problema. Senza contare che anche tutte quelle scritte orrende sui muri di fronte al cimitero sono davvero indecorose, soprattutto considerando che oltre ad essere un luogo sacro, il cimitero cremonese è anche monumentale e quindi di per sé luogo di interesse artistico. Ecco allora l'ennesimo appello al Comune, intervenire presto per restituire alla città un pezzo importante della sua storia.